ci presenta il video il nostro nuovo partner l'hotel europa in via stazione arma di taggia possibilità di pernottamento con mezza pensione e pensione completa un hotel nel cuore di arma di taggia a 50 metri dalla bellissima pista ciclabile ea 100 metri dal mare allora ricordatevi l'hotel europa speciale promozioni per i gruppi l'hotel l'ho 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 bravo ciao grazie 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 a tutti